Buon pomeriggio da parte di Matteo Ciofi e benvenuti a Prospettive. Iniziamo come di consueto con l'Angelus di Domenica che ha coinciso con la giornata mondiale del migrante e del rifugiato e proprio a loro il Papa si è rivolto dicendo di non lasciarsi rubare la gioia di vivere. Il racconto nel Vangelo Domenicale del prodigio compiuto da Gesù alle nozze di Cana ha ispirato la catechesi del Papa prima dell'Angelus. Nel miracolo di Cana ha spiegato vediamo un atto di benevolenza di Gesù verso gli sposi, una benedizione di Dio sul matrimonio. L'amore tra l'uomo e la donna è quindi una buona strada per vivere il Vangelo, cioè per incamminarsi con gioia sul percorso della santità. Ma il miracolo di Cana non riguarda solo gli sposi, ha precisato il Santo Padre. Ogni persona umana è chiamata ad incontrare il Signore nella sua vita. Ascoltiamo ora un breve strato delle parole del Pontefice. Il racconto dalle nozze di Cana ci invita a riscoprire che Gesù non si presenta a noi come un giudice pronto a condannare le nostre colpe, né come un comandante che ci impone di seguire ciecamente i suoi ordini. Si manifesta come salvatore dell'umanità, come fratello, come il nostro fratello maggiore, figlio del Padre. si presenta come colui che risponde alle atesse e alle promesse di gioia che abitano nel cuore di ogni di noi. Nel pomeriggio di domenica il Papa ha lasciato il Vaticano per dirigersi verso il centro città per l'attesa visita alla sinagoga. Terzo pontefice a varcare la soglia del Tempio Maggiore, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, Bergoglio ha parlato ricordando come nel dialogo interreligioso sia fondamentale incontrarsi come fratelli e sorelle davanti al nostro creatore e a lui rendere lode, rispettandoci e cercando di collaborare. Nel dialogo ebraico-cristiano, ha proseguito il Santo Padre, c'è un legame unico e peculiare in virtù delle radici ebraiche del cristianesimo. Ebrei e cristiani devono dunque sentirsi fratelli, uniti nello stesso Dio e da un ricco patrimonio spirituale comune, sul quale basarsi e continuare a costruire il futuro. Ascoltiamo ora un passaggio del discorso di Papa Francesco. Nella violenza, nella morte avranno mai l'ultima parola davanti a Dio, che è il Dio dell'amore e della vita. Noi dobbiamo pregarlo con insistenza affinché ci aiuti a praticare in Europa, in Terra Santa, in Medio Oriente, in Africa e in ogni altra parte del mondo, la logica della pace, della riconciliazione, del perdono e della vita. Nella messa di questa mattina a casa Santa Marta, l'omenia del pontefice si è incentrata sulla prima lettura, quella che narra l'elezione del giovane Davide al re di Israele. Il Papa ha sottolineato che anche nella vita dei Santi ci sono tentazioni e peccati, come dimostra proprio la vita di Davide, ma mai ha avvertito bisogna usare Dio per vincere una causa propria. Le parole del Santo Padre. Nel cammino cristiano, nel cammino che il Signore ci ha invitato a fare, mi viene di pensare che non c'è alcun santo senza passato, neppure un peccatore senza futuro. Prima di salutarvi vi ricordo che domenica alle ore 4 trasmetteremo uno speciale sul Sinodo dello scorso ottobre, ospite con me in studio Padre Rosica, con il quale andremo a commentare i temi e le interviste dell'Assemblea Sinodale. È tutto anche per oggi, grazie per la cortese attenzione ed appuntamento a giovedì. Grazie a tutti.